Bravo Cuba! Bravo Cuba! Bravo Cuba! Bravo Cuba! Toa! E la riqui se la come! Toa! E la riqui se la come! Toa! E la riqui castigando de pura! Le dame a los que le doy a Bollesi! Esa es la fanaticaba mas explosiva de todo Chile! Esa es la que la conoce de aquella que la conoce de Trump! Y que ahora va a ser un buen genérico! Por supuesto eso no lo puede perder el día de mañana! Aquí mismo! Uy me cal compra la lola! Ahí cerquita donde esta Mauricio Basta! El fotógrafo de que se ve! Cuidado! Bien! Que hizo sin! Defendiendo a su amigo y a su compañero! Que combate señores! Que combate! Lucha con aleja en la sexta! Contiene la jornada! Evento de la graduación de mi aquí! Teniamos ganas de hacer lucha! Teniamos ganas! De hacer la lucha con ustedes! Querían ver a subir a la pista! Cuidado! Cuidado! Uy! Perfecto! Batallando! Cerquita! Cerquita! El 3! Ambos están buscando! Vamos! Vamos! Bravo! 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 Si è finito! Si è finito! Guarda! La scuola è 19! Lassimati al Puba! Oggi, come ha venuto? Si ha visto il loro giusto, con un gioco giusto, con un gioco giusto! È 19! Il Puba! Con un gioco manchotazo! Se ha venuto a cuore! Quiere... 2 patate direzze a la cara di S.H.H.O.K.E una guarda della zona di Mostraia e invita a su compagno di St. Guadagnolo Allì qui c'è va Si quiere metterlo ring Uh! 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 Va a volerlo! Il titolo è solo con la scuola orienta Hasta lì leggo Hasta lì leggo il titolo in venta Viene Allì Le saca a vedere a mi, vanno a servire a mi oye, guarda il mondo ohhhh, guarda il pazza, guarda il 300 wow, guarda il numero di nuovo sta encarnato il numero 19, guarda il puma guarda il piume ohhhh sobra il piume, guarda il puma il numero di nuovo vai il lazo lo tiene se acaba se acaba no, no 2 1 2 casi casi la victoria la victoria a prima io la tengo venga si 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 inizia il femminile il femminile Pasa il femminile oh cuidado si lo vedi? e ora per tutti i ragazzi la fronte è una e sono l'aiuto che l'imposto non abbiamo scato la regina se fanno e si è stata si è stata la regina 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2 L'arico Yessi! Sacate a L'arico! Cuidado Yessi! Se libra! Oh! Se libra L'arico! La turma espontava con la crisi! Que lucha qui con pace, señores! No hay armi! No hay armi! Cuidado! Oh! Oh! Es brutal! Grutal! AX! Con el avento sobre el Puma! Mira! AX! 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 AX... AX! 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 Grazie.